Anche io voglio fare una cosa mvdm mvdm qual è la cosa che ti ha turbato di più nella tua vita Fidati di me Vai testa di cazzo parla Vai 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 parla a te Allora parla a te E parla a te E vabbè allora me ne vado da live anch'io Ok parlo io parlo io ti volevo dire Federica Sì Ti voglio far parlare con una mia amica che purtroppo mi ha creato tantissimi problemi nell'ultimo Uuuu io ti seguo Ok io ti conosco La segui Rosalba Sì è Rosalba Rosalba Mi sono preso qualcosa Rosalba Oddio che bellina Ciao Ciao Ma mi sono preso qualcosa Ciao 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 Uuuu 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 Sì Uuuu Scusa Finalmente c'è qualcuno che conosco stasera con tutto il rispetto E però c'è Ciao Rosalba come stai? Tu sto bene dai Voi se mi senti bene? Sì Io e te non ci siamo mai conosciuti Ah appunto piacere Piacere sai chi sono? Sì No Non era molto deciso Edo abbiamo parlato di te Grande grande Sì